In Italia vivono oltre 10 milioni di bambini e adolescenti. Povertà, violenze, discriminazioni. Spesso ostacolano i loro sogni. Dobbiamo proteggerli, coltivare i loro talenti, ascoltarli. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza lavora per questo. Perché investire nella tutela dei loro diritti significa investire in un futuro migliore. Crescere insieme ai bambini e agli adolescenti fa diventare grande l'Italia.